Per questa settimana che porterà poi alla sfida con la Paganese, quello che sarebbe dovuto essere uno scontro decisivo per la salvezza non lo sarà perché forse tutte e due riusciranno a salvarsi con largo anticipo. Gli stimoli possono essere allora, appunto come dicevi, quello di mettersi in mostra in queste ultime partite e per Puccio quello di ritrovare la condizione ideale. Assolutamente, entrambe direi, sia per mettermi in mostra che per ritrovare la mia condizione, anche perché ora arriva l'estate e quindi bisogna prepararsi alla spiaggia. No, a parte gli scherzi, no, saranno cinque partite fondamentali dove se abbassi la cresta, a parte che quando abbassi un attimino la concentrazione rischi anche di farti male, quindi non conviene neanche. Poi sei un professionista, quindi devi dare fino all'ultimo minuto, devi dare quello che hai.